Grazie all'avventura La Bouvette di Eva abbiamo potuto assumere tre donne e cominciare un tirocino di inserimento lavorativo per un'altra. Sta andando molto bene, le donne sono felicissime di lavorare qui e lavorare qui fa bene, ce ne accorgiamo quotidianamente perché vediamo che è una trasformazione costante. D'altronde quello che pensiamo è che stare in un contesto bello aiuta sicuramente, la bellezza la leggiamo anche nei loro occhi. Il teatro mercadante ha affidato di recente la gestione della sua Bouvette a un'associazione di donne vittime di violenza, operazione di grande significato sociale ma anche servizio di qualità che offre lo spazio nel foyer per un caffè o una pausa pranzo e che rimane aperto anche di sera in occasione della programmazione teatrale. Alla Bouvette di Eva lavorano quindi le donne in uscita dalla violenza e già coinvolte in percorsi di inclusione della cooperativa sociale Eva che da 24 anni progetta e realizza servizi di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne e i minori. Nel 2012 a Casal di Principe non venne confiscato, ho messo su il laboratorio delle ghiottonerie di Casalorena dove da allora fino ad oggi abbiamo sostenuto in termini di autonomia economica ma anche di riconquista delle proprie competenze un numero notevole di donne, alcune lavorano ancora con noi. Cultura e valori sociali indissolubilmente legati quindi grazie all'iniziativa del Teatro Nazionale di Napoli che sostiene così percorsi di empowerment per le donne più vulnerabili e promuove un'economia sociale inclusiva, circolare e sostenibile. Noi siamo molto molto orgogliosi, allargheremo questa partnership verso anche azioni comune e collaborazione su iniziative da fare insieme. Lo spazio prima di entrare nella sala diventa uno spazio di apertura vera alla città su un argomento specifico naturalmente e su un impegno specifico ma simbolicamente diventa anche uno spazio aperto in generale alla città, aperto sulla piazza finalmente liberata e per la prima volta il teatro ha davanti una piazza propriamente detta, senza più il cantiere della metropolitana e quindi l'unione di questi simboli ci sembra un po' la cosa importante da trasmettere e la cosa anche che ci ha mosso nella scelta di questa partnership.